Ai taquini della Gazzetta del Mezzogiorno, il giornalista di Sky Sport Daniele Barone ha parlato del campionato cadetto Quest'anno estremamente equilibrato. Al momento la Serie B è una competizione imprevedibile, più della sua pazza tradizione Per ora non ci sono padroni ma vedo Frosinone, Palermo e De Empoli un passo avanti rispetto alle altre In questa prima fase, però, hanno raccolto anche sonore sconfitte, per questo motivo non sono corazzate